eccoci qua signori big luca da dubai proverò a guardare dritto perché ho una webcam di fronte a me e il monitor a sinistra oggi siamo dotati di finalmente un nuovo microfono che mi sta altamente sulle balle devo tenerlo molto vicino alla bocca e non posso sbracciare quindi immaginatevi la situazione di contenimento immobilizzazione che sto provando allora oggi volevo parlarvi ma cazzo funziona sto vedete che perché inizio in una posizione ma poi voglio andare in un altro vabbè allora oggi voglio parlarvi ragazzi di cosa fare quando il marketing non funziona cioè ci sono delle situazioni di business che mi sono anche appena capitate durante il mastermind dove il marketing non è efficace l'online marketing non è efficace ok e le persone provano ad aggiustare dei problemi matematici o dei problemi emozionali tramite il marketing allora io vorrei essere chiaro se la vostra azienda la vostra attività ha un mercato che è piccolissimo per esempio è un'attività geolocalizzata ok ed è un'attività che non è possibile per tutto una serie di ragioni adesso ne parliamo espandere e avete un pool di clienti potenziali molto basso e non siete disposti per tutto una serie di ragioni che adesso analizzeremo perché non sempre è possibile a espandervi investire in una differenziazione credibile che vi permette di alzare i prezzi il marketing non è assolutamente efficace cioè alcuni di voi che ci guardano guardano la big look international eccetera non hanno essenzialmente dei problemi di marketing hanno problemi da ricercare da altre parti allora qua mi sentite se dovrebbe funzionare questo perché abbiamo un nuovo audio l'ho già detto che abbiamo un nuovo audio ci siamo indebitati fino al buco del culo per per questo microfono allora facciamo al vi voglio dare vi voglio dare alcune esperienze mi capitano a volte esempi di per esempio abbiamo parlato di business geolocalizzati ok allora i business geolocalizzati ragazzi per esempio i ristoranti per esempio gli agenti immobiliari che hanno la loro azienda immobiliare dove fanno brokeraggio di case ok vendono case alle persone acquisiscono case dai proprietari di casa e le vendono piuttosto che studi dentistici studi di osteopati abbiamo lavorato con tantissime persone in questo senso allora ovviamente tra gli esempi che vi ho fatto ci sono esempi di attività che è possibile aumentare incrementare spandere digitalizzare termine che mi dà fastidio internazionalizzare o quantomeno nazionalizzare non nel senso che lo stato diventa proprietario della vostra azienda come nel comunismo ma a rendere questi business non geolocalizzati a una città ma quantomeno è possibile fargli avere un indotto nazionale però ci sono alcune eccezioni allora per prima cosa se voi avete facciamo il caso di un ristorante ok allora il ristorante è un'attività geolocalizzata che di solito vive di passaggio questa è la realtà ok più è piccolo il paese nel quale siete ragazzi più sarà incredibilmente problematico lavorare con il marketing ora ci sono e cioè letteralmente io posso farvi avervi possiamo insegnare ad acquisire più clienti però se la vostra attività è nata dal presupposto che si fa la guerra dei prezzi e voi non siete disposti emozionalmente a cambiare questa attività ok perché non avete il coraggio di alzare i prezzi perché siete in società con persone che non ve li fanno alzare perché non siete disposti a usare un marketing aggressivo perché non è nelle vostre corde eccetera eccetera la realtà è che molti di voi stanno semplicemente perdendo tempo con queste attività e è molto difficile intervenire ce lo dico per com'è vivete in un paese di due o tre mila anime e volete avere una pizzeria la cosa è abbastanza difficile cosa facciamo in questa pizzeria per attrarre più clienti per alzare i prezzi ora ci sarà sempre il modo di lavorare ok ci sarà sempre il modo di alzare i prezzi ci sarà sempre il modo di fare qualcosa però la realtà è che alcuni di voi sono semplicemente in un veicolo di business che non può portare grandi soddisfazioni o per permettervi grandi soddisfazioni volete fare un milione netto all'anno che ragazzi un milione netto all'anno è molto soprattutto nel mercato italiano quindi o avete siete a cavallo di un veicolo di una cosa che può essere facilmente espanso facilmente marchitizzato oppure la cosa è altamente problematica quindi io noto alcuni di voi ci sono state alcune situazioni così del mio mastermind alcune assolutamente risolvibili migliorabili altre no ok non erano molte ma mi sono capitate anche durante il mastermind però per essere sincero capitano più ai manager in consulenza negli anni ho visto un sacco di situazioni simili dove semplicemente il margine di manovra che voi avete è veramente veramente ridotto e quindi a volte è semplicemente meglio cambiare veicolo cioè chiudere la vostra attività e iniziarne un'altra ok facciamo sempre il caso di un ristorante un ristorante funzione funzionerà solamente solo con dei prezzi assurdi ok queste sono le uniche attività che vi rendono ricche quando voi avete un limite di posti un limite di sedute nel vostro locale o si trova un modo i modi si trovano assolutamente anche perché per esempio i ristoratori sono scarsissimi nel fare marketing perché hanno paura delle leggi imposte dal dalla vostra industria dei prezzi auto imposti mentalmente dal giudizio degli altri dalla pubblicità nega quella che voi percepite come negativa e bla 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 se non avete prezzi assurdi se non vendete bistecche a meno 60 euro o risotti a 50 euro o hamburger a 40 50 euro la realtà è che fare tanti soldi con la vostra attività diventa praticamente impossibile e nessun ammontare di ottima pubblicità o di ottimo marketing risolve il problema che se voi avete 200 sedute nel vostro ristorante vendete a x e quando fate il calcolo raggiungete un montante che non vi soddisfa noi possiamo fare tutta la pubblicità e tutti gli ad se potete fare tutto il retargeting che volete fate i funnel fate il marketing a risposta diretta ma avete un cap dato dalla matematica e il marketing ai noi non fixa la matematica vedo ancora un sacco di imprenditori che non hanno realizzato questa cosa quindi avete un problema di origini matematiche ok l'unica alzare i prezzi e no ma io non posso alzare i prezzi come faccio ok allora non possiamo fare niente perché più clienti non ci stanno ripeto ragazzi c'è sempre il modo di organizzarsi facendo magari mettendo alcuni locali semplicemente inserendo l'asporto ok che è uno stream un profit center in più però voi capite che nel momento in cui il veicolo è zoppo si pongono tutta una serie di limiti alle azioni di marketing che potete fare che possono certamente andare a migliorare quello che fate però molte volte la soluzione sta semplicemente nei numeri ridurre i costi e ottenere maggior qualità dai soldi che fate cioè ci sono fondamentalmente due situazioni che sono possibili la prima è che i soldi che fate sono più o meno quelli sì possiamo lavorare possiamo aumentarli possiamo incrementarli però il problema e questo è dove alcune persone invece cadono è che le azioni che noi possiamo fare di marketing di pubblicità mettiamo dentro tutto di ads di funnel di manipolazione del prezzo di scontistica di materiali che noi possiamo produrre andranno sempre zoppi in quanto questi materiali e queste azioni di marketing non possono matematicamente darvi un beneficio così grande che ne giustifica il prezzo alcune persone negli anni sono venuti venute anche da me personalmente avendo fatto delle pregevoli a livello di qualità i divervi imprenditoriali iniziative di marketing materiali mi viene in mente cartacei bellissimi patinati curatissimi con dello storytelling molto bello e molto curato molto corretto anche a livello di teoria ma che poi mi dicevano sì ma big però i risultati economici non ci sono forse è sbagliata l'azione di marketing io rispondevo guarda l'azione di marketing va anche bene il problema è che se tu tesoro non mi alzi i prezzi o non mi ampli il ristorante o non cominciamo ad avere dei cibi per cui diventiamo famosi e ci insultano su internet dove una bistecca costa 200 euro perché lo diciamo noi e usiamo un esito sempre a usare questo termine perché ormai è sputtanato un posizionamento credibile oppure semplicemente non c'è soluzione al vostro alla vostra situazione se non siete in grado di gestire il vostro ristorante o la vostra vostro studio dentistico per esempio ho fatto molte consulenze con i dentisti chiaramente i dentisti hanno per esempio una price elasticity maggiore di molti ristoratori il che non è vero però se intendiamo la morale comune che c'è nell'industria un dentista guadagna più di uno che ha un ristorantello sfigato quindi tra virgolette il dentista riesce avendo già prezzi alti e margini di solito più alti giocando un po con i prezzi ed essendo in un business che è percepito non come uno può evitare di andare in pizzeria a mangiare la pizza ma rifarsi i denti o quando il dente fa male è chiaramente un'urgenza diversa riusciamo a giocare sempre di più con i prezzi però anche lì se non siamo disposti se non siete disposti a cambiare completamente il vostro modello di business uscire dai prezzi autoimposti della vostra industria e abbracciare tutto un modello di marketing completamente diverso non si riesce a lavorare e quindi i miglioramenti saranno semplicemente incrementali e non esponenziali i business migliori con cui ho lavorato sono business di grande price elasticity dove è possibile porre una pezza alla geolocalizzazione nella geolocalizzazione i business fisici geolocalizzati hanno un MDK voi vi dovete accorgere di questa cosa e non riesco a capire perché molte persone provino ancora ad aprire business che sono geolocalizzati voglio aprire una pizzeria in piazza X voi vi rendete conto dei problemi sono immediati noi possiamo certamente stare a differenziare a giocare con il prezzo il fatto che voi abbiate 100.000 altre pizzerie aperte vicine è un tema poi noi possiamo dire la competizione non c'è se lavori bene non è vero se uno ha fame si può fermare nella pizzeria prima regardless di tutte le azioni che facciamo avete un cap ai clienti che potete avere se voi vi mettete consciamente in una situazione dove il numero dei clienti che potete avere per ora, per giorno, per mese è finito cioè non può essere aumentato può essere aumentato solo a fronte di una spesa eccessiva questo è un sistema di business zoppo ritorniamo ai ristoratori avete un ristorante che va anche bene l'unico modo per cominciare a fare più soldi è aprire una catena di ristoranti cioè dopo un po' il vostro ristorante possiamo stare a smandrupparlo come volete e ci sono e peraltro può essere fenomenale per un ristoratore che fa 50k netti all'anno passare a 100 perché è il 100% ma quello che vi sto dicendo è un'altra cosa vi sto dicendo che il miglioramento in termini di massimizzazione caramelle qua sono finite vediamo se ce ne ho altre magari riusciamo a fare il video in termini di monetizzazione, di massimizzazione di marketing e di soldi non va assolutamente bene quindi quello che noto è che le persone iniziano a seguirci vogliono lucrare ma hanno modelli di business dove non è possibile ce lo diciamo chiaramente abbiamo avuto modelli di tabaccherie ragazzi che ci facciamo con le tabaccherie? avete i prezzi imposti farmacie sì possiamo mettergli a latere qualcos'altro possiamo tentare di raccontargli e fare i laboratori sì tutto giusto ma il core business e anche la situazione mentale delle persone che si recano in una farmacia non è certo una situazione che è predisposta a spendere un sacco di soldi e farsi fare un sacco di upsell e di crosssell cioè ci sono dei limiti mentali e a volte deontologici ed etici che non possono essere oltrepassati e che oltrepassare l'esempio della farmacia se le persone vogliono spendere un sacco di soldi per dei trattamenti eccetera vanno nella medicina alternativa per esempio non vanno in farmacia se avete un negozio di medicina alternativa e metodi alternativi come vedete la mente della persona è già su una scelta che siccome è alternativa rispetto a una cosa che è fissa statica con prezzi imposti dove vado in farmacia e mi danno l'aulin ecco che sono disposto già mentalmente a sentirmi raccontare delle storie vere per carità e adottare dei metodi che essendo alternativi costano di più questa è la differenza il motivo per cui uno psicologo tradizionale fondamentalmente guadagna di più e guadagna di meno e sono assolutamente incazzati di un coach perché se tu dici psicologo nella mente delle persone si crea una standardizzazione una familiarità con un sistema che è standard che è certificato che è ufficiale che ha dei prezzi che sono conosciuti al mercato e sono in un price range gli psicologi di media chiedono 80 euro all'ora e loro non sanno il perché lo chiedono i coach chiedono 500 euro all'ora e non hanno le certificazioni perché nel momento in cui uno pensiamo al guru business un professore universitario al di là del fatto che questa è la mia sveglia mi sarei dovuto alzare adesso mi sono alzato prima pensiamo a una persona che lavora in università al di là del fatto che il marketing che insegnano nell'università per il 99% è inapplicabile alle PMI è teorico, questi modelli molto teorici, molto veri, interessanti ma non applicabili non guadagnerà mai come un guru del marketing primo perché il guru del marketing sia un'azienda ha più clienti, fa felice, più persone quindi può prendere più soldi rispetto a uno stipendio fisso ma anche mentalmente se una persona va in un'istituzione si aspetta di trovare a livello di prezzi una standardizzazione che sia credibile e accettabile per la maggioranza visto che la maggioranza si affida a denti ufficiali non so se ha senso la cosa che sto dicendo se voi andate da un dottore anche non della mutua un dottore privato ma che riceve in una struttura normale è un dottore che fa un po' di cose con la mutua e un po' di cose on the side il price range che ci si può aspettare da questa persona non saranno 3.000 euro all'ora quello ce lo puoi avere con la celebrity con una persona che decide di fare delle azioni di personal branding molto pesanti ok? molto pesanti e quindi può permettersi una price elasticity e un posizionamento e un allure completamente diverso ok signori? quindi voi dovete capire che o siete disposti a fare certe azioni e certe azioni a volte sono precluse da ciò che avete adesso vi faccio altri esempi oppure semplicemente voi farete tutta la vita delle azioni di marketing anche giuste e anche corrette studierete magari i nostri percorsi siete lì che diciamo perché io voglio lucrare perché esce anche tutta la tematica della visione per esempio voi come fate avendo un business che è zoppo e le persone intelligenti si accorgono che è zoppo a vendere la vostra visione questo è un altro tema degli imprenditori dicono big io sono circondato da scappati di casa capisco quello che devo fare accetto questa cosa qui accetto che devo essere diverso accetto che dobbiamo fare marketing in modo diverso ma io non ho lo staff per fare tutte le cose che mi dici solo alzare i prezzi lo staff non capisce si confonde c'ha paura c'ha tutti questi rettaggi da povero come faccio? beh è molto difficile questo l'ho spiegato nel mio ultimo corso avere dei mastini da combattimento che siano anche in grado di formarsi se voi non avete un business che può avere una visione quindi alcune persone mi dicono la mia visione è lucrare la mia visione è arricchirmi la mia visione è costruire veramente un'azienda che sia bella che sia solida che dia anche da lavorare a tante persone perché mi piace la condivisione con queste persone che lavorano per me il progetto non devono essere tutti i miei soldi e crescere ed essere parte è tutto bellissimo il problema è vendere questa visione quando questa visione è invendibile perché in realtà col vostro modello di business non si può fare un'altra cosa è il problema identitario e cioè se voi identitariamente siete questo l'ho spiegato nel mio ultimo corso gestione aziendale per nababbi che è chiuso siete dei paesanotti ok e avete tutta una serie di scemenze nella testa io conosco persone che hanno modelli di business che possono essere incredibilmente aumentati su quale una macchina di marketing potente fa fare veramente dei milioni ma semplicemente loro sono magari in società con la mamma e la mamma ha 80 anni e non capisce la mamma ha la firma ok cioè voi che visione dovreste vendere a chi avete paura della delega ok sento ancora delle frasi se io faccio pensate per esempio ai prezzi alcuni imprenditori non espongono i prezzi perché sennò dicono me li copia la concorrenza cioè se voi avete questa mentalità piccola da circolino delle bocce italiane voi non farete assolutamente niente inutile fare il ma cioè lo dico contro il mio interesse perché i nostri percorsi sul marketing online marketing il business ce li vendiamo voglio dire quindi però vi metto semplicemente in guardia avete questa piccola mentalità se spongo i prezzi mi li copiano big e poi la competizione fa i prezzi uguali non c'è la competizione non dovrebbe essere in grado di copiare i prezzi perché dovremmo fare tutta una serie di azioni per non farcele copiare e questo ci porta a un altro problema le persone non sono disposte a fare le cose cioè avete paura questa è dei prezzi è una cosa mondiale ora ho testato questa cosa negli anni ve la posso dire in modo assolutamente certo che nella maggior parte dei casi voi state facendo prezzi troppo bassi cioè senza modificare di una virgola la comunicazione i prezzi l'organizzazione i servizi i materiali voi potete talvolta raddoppiare triplicare i prezzi io sono stato a contatto con imprenditori anche in consulenza privata che ci hanno messo mesi a capire questa cosa c'è anche il fatto contrario che invece alcune persone provano semplicemente a dire delle cose diverse nella loro comunicazione social per esempio o ad aumentare i prezzi quando invece hanno modelli di business dove non è possibile alzarli e perché sono business sfigati e perché il servizio che voi date ai clienti non è credibile ok quindi se voi volete avere dei ristoranti dove alzate tanto i prezzi per esempio voi non potete avere vostro cugino in canotte e ciabatte in cassa non prendere le carte di credito svenire se io vi tiro fuori un American Express avere dei menu schifosi di plastica avere una clientela che fa schifo ok avere per esempio una delle cose che io consiglio ai ristoratori volete vendere ai ricchi benissimo fate un ristorante dove non possono entrare i bambini o dove se entrano alla porta vengono accompagnati al kids club mentre i genitori cenano in santa pace se voi non siete in grado di fare una cosa del genere non si può fare ed anche lì ragazzi chi ha un business geolocalizzato ed è in una piccola frazione di paese è molto difficile che le persone si facciano 50 o 100 chilometri per venire a mangiare da voi a meno che voi non abbiate qualcosa di eccezionale e talvolta anche se ce l'avete non basta non per niente la maggior parte dei ristoranti di lusso eccetera sono o in posizioni dove c'è un sacco di passaggio e le e sono facilmente raggiungibili da un sacco di persone oppure hanno prezzi così assurdi che anche se sono difficilmente raggiungibili con quel tanto che chiedono a poche persone che vanno poche volte in questo ristorante perché è irraggiungibile soddisfano i loro criteri economici il mezzo è abbastanza pericoloso ok quindi questi sono alcuni dei pattern che io noto ripeto una conversazione aperta un video aperto più che altro per testare il microfono ho detto vado al computer e dico due o tre cazzate quindi prima di cominciare un percorso con noi di consulenza di corsi prima di mettervi lì a fare dei cartacei degli ads degli webinar e voglio fare il funnel e voglio fare il retargeting perché questo è il vostro problema avete un'attività che non ha senso di esistere non siete molte volte neanche molto bravi a farla perché poi questo è l'altro problema siete dei non lo so fisioterapisti mediocre siete abbastanza capaci avete il piccolo studiolo nel paesino e avete anche paura del giudizio altrui cioè che marketing facciamo ve lo dico prima ma non c'è da fare il marketing è una tragedia ci sono persone che non reggono il marketing l'online marketing alla big look a maniera perché dovete essere aggressivi cioè se la media è non fare niente la media è se qualcuno mi bussa la porta e gli vendo qualcosa e se non ho e voi cominciate a fare della pubblicità è già una cosa per la quale vi guarderanno male molti hanno paura del giudizio altrui ora stare in Italia non aiuta frase viene fuori ma cosa penserebbero le persone ma io come giustifico questa cosa con gli altri eccetera se voi non fate un grosso lavoro di mindset vendiamo percorsi anche in questo senso non c'è assolutamente niente da fare per voi ve lo diciamo chiaramente va bene quindi non provate ad aggiustare problemi che sono mentali problemi che sono geografici problemi che sono soprattutto quindi matematici posto geolocalizzato paese di 2000 persone problemi di mindset non avete problemi di marketing il marketing non c'è a questo punto cioè non c'è niente che Big Luca vi possa dire di scrivere nelle vostre sales page o non c'è niente che i miei manager vi possano insegnare a fare a livello di upsell che cross-sell facciamo per esempio che upsell e cross-sell facciamo in una situazione del genere pizzeria nel buco del culo del mondo gestita da parenti in canotta in ciabatte cosa facciamo vendiamo lo champagne cioè vi rendete conto anche voi alziamo sì alzate di un euro le margherite probabilmente siete in una situazione dove non potete fare neanche quello ok quindi il mio invito questo lo dice anche il mio mentore amico e business partner Dan Kennedy le persone provano ad aggiustare problemi matematici ok con il marketing ok non si può assolutamente fare sono qua per dirvi che non si può fare se provate a farlo fallirete miseramente quindi queste sono alcune cose per oggi spero che questo video vi aiuti io vi mando in depressione iscrivetevi al canale arrivederci